sono alla presentazione di questa nuova opportunità di questo nuovo catalogo che io ho voluto intitolare ora solare e l'ho voluto fare anziché fare la presentazione scritta l'ho voluta fare in video incontrarmi e che voi mi vediate ma mi conoscete e però che abbiamo un rapporto un po diverso e quindi ora solare perché ora solare l'ora solare che inizia da ottobre e va fino a fine marzo è un tempo dell'anno in cui noi abbiamo un rapporto con la casa diverso perché abbiamo meno luce abbiamo quindi voglio evidenziare che cosa la ciclicità dove noi ci troviamo nei nostri spazi nei nostri tempi che cambia quindi creare anche in voi questa curiosità di voler magari modificare i vostri tempi i vostri spazi la vostra casa allora vi ho preparato queste 95 opportunità dove abbiamo un arco ampissimo dal killing contemporaneo tutti nuovi tutti i pezzi unici fra il design e la storicità abbiamo una collezione di tappeti antichi di chilima antichi scusate straordinaria unica sempre dall'anatolia dal caucaso in più vi ho inserito tutti dei tappeti contemporanei ispirati dall'elemento nomadico dall'elemento primordiale dei berberi dei tulu dell'anatolia questo per realizzare che cosa un percorso un'opportunità che oggi è molto attuale cioè avere una casa che diventa un viaggio degli ambienti che ci facciano sognare che ci facciano uscire da quelle che sono le nostre tenendo conto dell'ora solare perché alle 5 abbiamo buio e questo ci cambia tenetene conto non si può a mio avviso realizzare una casa una volta all'anno la casa ha un movimento come noi come le nostre stagioni quindi riuscire a entrare in empatia e utilizzare questo schema ci può arricchire moltissimo e ci rende felici perché un tappeto che cos'è è renderci felici la nostra casa la nostra unicità e io con la mia esperienza oramai diciamo adulta adulta posso con il confronto riuscire a realizzarvi queste cose assieme sempre assieme voi dovete uscire con le vostre unicità e il metodo che io applico che è confronto selezione visione e scelta è sempre un movimento circolare che il simbolo che voi vedete quello del gul che ci insegna il movimento circolare dove noi siamo inseriti e l'ora solare è un'opportunità che abbiamo dentro che abbiamo fuori con la natura adesso le piante si spogliano quindi abbiamo delle dimensioni diverse e qui trovate però che cosa un cinese antico straordinario coi cani fo trovate questi tulu dell'anatolia che sono dei tappeti primordiali che ci danno proprio questo senso di semplicità ma di profondità e che cosa ci fanno scoprire ci fanno scoprire che il tappeto nasce dall'uomo per l'uomo sempre è sempre stata una realizzazione fatta per se stessi e quindi i simboli i colori hanno questa creano questa empatia di chi l'ha realizzato ma anche di voi che vi potete realizzare ambienti e tempi perché una casa è un ambiente ma anche un tempo unico originale e io sono qui pronto basta che mi mandate le immagini del tappeto selezionato e ci confrontiamo noi siamo pronti io sono pronto